domani sera il pubblico avrà l'opportunità di scoprire un lato inedito di carmen di pietro grazie all'intervista condotta da francesca fagnani nel programma belve la showgirl nota per la sua personalità vivace e le sue apparizioni in tv ha deciso di rispondere a domande che da tempo circolano nel gossip la domanda che tutti si pongono ma ciò ci fa carmen ha chiarito che il suo personaggio è autentico non una maschera ma la vera essenza di se stessa durante l'intervista carmen ha affrontato le sue storie d'amore più chiacchierate in particolare quelle con diego armando maradona e sylvester stallone ha confermato che la relazione con il leggendario calciatore argentino è stata reale mentre ha rivelato di aver rifiutato stallone un rimpianto che l'accompagna da anni la fagnani con il suo stile incisivo ha saputo estrarre dettagli piccanti e aneddoti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso carmen di pietro non è nuova a momenti di larità e l'intervista non ha fatto eccezione la showgirl ha parlato della sua fede e delle sue abitudini quotidiane ma non ha potuto evitare un lapsus divertente riguardo alla preghiera la battuta della fagnani che ha colto l'occasione per scherzare sulla pensione di reversibilità del defunto marito ha aggiunto un tocco di leggerezza a un'intervista altrimenti seria nonostante le provocazioni carmen ha mantenuto il suo spirito dimostrando di saper affrontare le critiche con ironia la serata promette di essere ricca di emozioni rivelazioni e risate carmen di pietro con la sua personalità esplosiva ha dimostrato di essere una donna forte e sincera capace di affrontare il passato con coraggio la sua storia è un mix di amore rimpianti e momenti esilaranti che la rendono un personaggio unico nel panorama televisivo italiano non resta che sintonizzarsi su Rai 2 per scoprire tutto